Le recenti dimissioni di Andrea Castagna dal Consiglio d'Amministrazione della Società della Musica e del Teatro, Primo Riccitelli, hanno scatenato un'ondata di reazioni nel paronama politico e culturale di Teramo. Castagna, nominato dalla maggioranza politica che guida il Comune, ha espresso il proprio dissenso attraverso una lettera aperta, evidenziando la mancanza di condivisione nelle decisioni culturali e la propria estromissione dalle scelte strategiche ed in particolare per quanto riguarda la gestione del teatro comunale. Una vicenda che, come facilmente prevedibile, ha acceso le polemiche, in particolare dei banchi, dell'opposizione. Da sempre che vi è una lamentela dai componenti del CDA appunto per la chiusura ormai nota e annunciata da anni del comunale, del teatro comunale, senza che questa amministrazione si fosse preoccupata di come sostituire questo spazio e dare la possibilità a tutte le scuole di danza, tutte le scuole di teatro che sono sul territorio di poter avere uno spazio e un luogo dove appunto sostituire il comunale. Il dottor Castagna era un membro nominato dalla maggioranza, dal sindaco, quindi lei può immaginare l'imbarazzo appunto delle dimissioni di un componente della maggioranza. Io mi aspetto che tutti i componenti del CDA facciano un passo indietro e diano le dimissioni appunto perché non vi è nessuna possibilità di poter andare avanti, di poter gestire appunto la prima Riccitelli. Per il consigliere Fracassa la mancanza di uno spazio idoneo in città per eventi e recite porterà numerosi disagi visto che in molti saranno costretti ad andare fuori Teramo. Società che sono sul territorio, che ogni anno raccolgono tutti questi bambini e ne sono tantissimi, insieme ai genitori, insieme ai nonni, nei vari saggi, quest'anno si dovranno spostare ad Ascoli. Quindi lei, non solo quest'anno, non so per quanti anni, forse per dieci anni, perché lei sa pure che il cineteatro che deve essere abbattuto e ricostruito, vi sono anche delle problematiche dettate da alcune attività commerciali e quindi non si riesce ancora a capire quando inizieranno i lavori e soprattutto quando termineranno i lavori.